Buongiorno a tutti, allora proseguiamo a rifare i video che ai me erano senza audio. Mi sono dimenticato di togliere sto coso qua, mi dimentico sempre che non posso lasciare l'auricolare nel computer perché sennò a volte l'audio se ne va a farsi benedire. Quindi andiamo a vedere com'è andata l'ultima giornata prima della sostona perché purtroppo per gli amanti delle scommesse del campionato spagnolo il campionato spagnolo va in letargo subito, subito non fa l'ultimissima giornata prima del mondiale vanno in letargo subitissimamente e quindi ahimè così è se vi pare. Quindi quattordicesima giornata del campionato spagnolo. Si è iniziato martedì con la sconfitta indesima dell'Elce contro il Girona per 2-1 Elce che perde in casa contro il Girona 2-1 ed è sempre più fanalino di coda in questo campionato spagnolo. L'atletico Bilbao non ha alcuna pietà del Valladolid e vince 3-0. Il solito Susanna non piangere perché mi perde in casa 2-1 con il Barcellona che quindi si regala un Natale al comando perché poi dopo Natale si riprenderà però per il momento il Barcellona nonostante la sconfitta al Bernabau contro il Real Madrid 3-1 resta davanti ai pluricampioni della Champions e zitto zitto cacchio cacchio nonostante i problemini e quant'altro potrebbe andare a vincere il campionato però è ancora lunga signori è lunga tanto il Gigione dà una soffiatita con il Nappo orsocappo comunque lo Susanna signori miei è una squadra strana e me lo continuo a dire il Barcellona tra l'altro è rimasto pure in 9 perché la partita è stata clamorosa Osasugna in vantaggio poi al 39 trentesimo trentesimo minuto sì esatto al trentesimo minuto la volpe del deserto di Revandoschi si fa espellere nonostante poi al 49esimo cioè alla fine del primo tempo nei minuti di recupero anche Gerard Pichet pensa bene di farsi espellere al 48esimo il Barcellona in 9 pareggia con Pedri e all'ottantacinquesimo Rafinha scritto col PH quindi non è Rafinha con la F-I-N-H-A ma è Rafinha col PH doppio quindi R-A-P-H-I-N-H-A Rafinha segna il gol vincente con il Barcellona che va a espugnare il campo dell'Osasugna in 9 contro 11 una cosa clamorosa grande grande Barcellona complimenti a loro è il Barcellona ragazzi e l'Osasugna è l'Osasugna ve lo continuo a dire squadra matta l'Almeria batte 1-0 al Getafe nonostante anche lei è la giornata dei cartellini rossi beh all'ottantasettesimo stavano già vincendo 1-0 hanno resistito gli ultimi tre minuti più recupero hanno portato a casa una vittoria importante tra l'altro Almeria signori è un paese in cui due attori anzi un attore e un es sportivo si sono conosciuti per fare il loro primo film assieme e raccontava uno di loro che quando l'altro venne a mancare lui era proprio in Almeria nella città di Almeria e come se se lo sentisse gli è arrivata la telefonata del figlio di questo personaggio penso che abbiate capito di chi parlo però se non ne avete capito poi me lo scrivete nei commenti e eventualmente vi rispondo proseguiamo con la vittoria della Real Sociedad in casa del Siviglia tra l'altro Siviglia che resta anche lui 10 l'ho detto è la giornata di Cartelanzi addirittura in 9 perché c'è un'espulsione al 28esimo un'altra al 34esimo proprio sono saltati i nervi i giocatori del Siviglia che finiscono sotto 2-0 nel mezzo perché prendono il primo gol al 20esimo e il secondo gol dopo la seconda espulsione poi reagiscono riescono a segnare alla fine del primo tempo il gol dell'1-2 ma poi ehmè il 9 contro 11 la Real Sociedad probabilmente non ha voluto troppo approfittarne fare la maramalda ha pensato solo a controllare il risultato a portare a casa tre punti importanti e il Siviglia adesso è di nuovo in una posizione di classifica poco simpatica l'Espagnol perde in casa 1-0 col Villareal che non si spreca segna il gollettino che un gol tre punti che vanno sempre bene poi c'è la sorpresa ragazzi l'Atletico Madrid mi perde 1-0 in casa del Mallorca e diciamo che Simeone non se la sta passando propriamente tanto tanto bene bisogna dirlo adesso si sta allontanando anche la zona Champions diventa un pochettino più problematica è lì è sempre nella sua però questa sconfitta è pesante mentre invece è clamoroso il Raio Vallecano che nel weekend ha battuto clamorosamente il Real Madrid 3-2 nel derby spagnolo che non sapevo neanche che fosse che il Raio Vallecano fosse di Madrid d'altro nel Raio Vallecano chi chiezzo lo conosce però non è che mi preoccupo del Raio Vallecano mi pareggia 0-0 col Saltavigo cioè tu mi fai tre gol al Real Madrid e non riesci a farne neanche uno al Saltavigo giocando in casa come vi dicevo ragazzi la prova del 9 la cosiddetta prova del 9 di cui parlava il grande Rino Tommaso quando un giocatore di tennis batte una testa di serie la partita successiva dove magari affronta un giocatore di suo livello di pari classifico o di pari classifica inferiore spesso e volentieri perde nel caso del Raio Vallecano non ha perso però un pareggio in casa è una mezza sconfitta tra l'altro contro il Saltavigo buona squadra ma nulla di eccezionale veramente giornataccia per le squadre di Siviglia perché come dicevamo ha perso il Siviglia ma ha perso anche il Betis che resta anche sì con l'uomo in meno perché viene espulso González al 61esimo ma ormai la partita no era ancora sullo 0-0 signori al 61esimo viene espulso González e dal 63esimo fino alla fine della partita il Valencia Maramaldo gli spara tre pappine 63esimo 82esimo 81esimo e poi al 90 più qualche minuto nei minuti di recupero arriva anche il terzo gol 3-0 Valencia sul Betis giornataccia per le squadre di Siviglia che perdono tutte e due e infine no infine non è ancora in fine manca ancora qualche partitina no mancava solo il Real Madrid che non è che si spreca più di tanto batte 2-1 il Cadice ma comunque erano sul 2-0 poi gli hanno permesso di fare il gollettino della bandiera alla squadra del Cadice e quindi il Real Madrid che si rifa sotto dopo la clamorosa sconfitta contro il Raio Vallecano bene ragazzoni andiamo a vedere un po' la classificona del campionato spagnolo che come dicevo vede sempre il Barcellona in testa con due punti sul Real Madrid Barcellona che ha sfruttato appunto la sconfitta contro il Raio Vallecano per risorpassare il Real sono tutte le squadre con 14 partite quindi è una classifica precisa 100 comunque Barcellona che se ne va il letargo chiamiamolo così il letargo obbligato con tutte le altre squadre si godranno i mondiali ci saranno le squadre naturalmente i giocatori della Spagna e delle altre nazioni che giocano in queste squadre che saranno ai mondiali la Spagna c'è noi no va bene comunque Barcellona 37 Real Madrid 35 e direi che qua possiamo chiudere il discorso campionato se la vedranno loro due perché la Real Sociedad che è terza in questo momento ha 26 punti 9 dal Real Madrid e 11 dal Barcellona io credo che Real Sociedad ha 26 Atleti Bilbao 24 Atletico Madrid ha 24 e Betis Siviglia ha 24 si giocheranno la zona Champions attenzione però perché abbiamo l'Osasugna ha 23 il Raio Vallecano sempre più sorprendente a 22 e il Villareal a 21 queste potrebbero essere le Outsider che potrebbero andare a disturbare per la zona Europa quindi per la quinta sesta settima posizione perché come sempre come ben sapete come per il campionato italiano chi vince la Coppa del Re va in Europa League se a vincere la Coppa del Re è una squadra che è già qualificata per o la Champions o l'Europa League come capita spesso la settima classificata andrebbe in Conference e la sesta andrebbe in Europa League quindi Ragasoli il settimo posto per ora appannaggio dell'Osasugna fa gola e fino al Mallorca che ha 19 punti cioè a 4 punti dall'Osasugna tutte possono sognare un posto in Europa un attimino o meno penso lo sogno il Vagliadolin che credo abbia più interesse a una salvezza tranquilla così come il Girona che sono a 17 16 punti insieme all'Almeria che sta facendo un buon campionato l'Almeria lontana dalle zone basse eccetera a 14 abbiamo il Getafe che è lì aiuto dove sono gli altri aiuto c'è paura li prendono quindi l'Espagnol e il Celta Vigo che sono a pari merito a 12 punti a limitar dell'ultima in classifica e poi ahimè signori è brutto da dire e da vedere 18esimo il Siviglia a pari punti col Cadice e per il momento è 18esimo per la differenza reti nettamente a suo favore il Siviglia a meno 9 il Cadice addirittura è a meno 17 come differenza reti e quindi per ora il Siviglia sarebbe terzultimo ma cambia poco perché andrebbe direttamente in serie B e sarebbe abbastanza clamoroso sarebbe come dire come possiamo rapportare le due Roma e Lazio una Roma che è 18esima in classifica sarebbe clamoroso scusate il raffreddore perché Real Madrid e Barcellona il Barcellona lo potremmo paragonare alla Juventus della Serie A Real Madrid e Atletico a Inter e Milan o Milan e Inter fate un po' quello che volete anzi non sarebbe neanche giusto perché comunque le due squadre milanesi più o meno si avvicinano soprattutto adesso magari i tempi di Sacchi e di di Capello del Berlusca li potevi accostare a Real Madrid Atletico ma anche lì si è un po' una forzatura perché in quei tempi a parte qualche anno con gli ultimi anni di Pellegrini quando arrivò Moratti le partite erano molto molto equilibrate anche se poi il Milan diceva in Champions eccetera eccetera quindi però il Siviglia ragazzi miei il Betis l'anno scorso era giù che lottava per salvarsi e il Siviglia giocava per la Champions quest'anno si è rivoltato tutto e vederlo al diciottesimo posto è abbastanza clamoroso quindi credo che se il Tavigo ed il Spagnolo è meglio che si diano una mossettina insieme al Getafe perché non penso che il Siviglia finirà con nella Serie B spagnola è una squadra teoricamente che a parte la periodo un po' così dovrebbe riuscire a tirarsi sul morale piano piano e anche la classifica comunque niente il campionato spagnolo poi proseguirà ripartirà eccetera eccetera se non erro dalla fine del mese di dicembre perché la quindicesima giornata è prevista per il 31 di dicembre siccome sinceramente non credo che giocheranno un giorno di capodanno perché sarebbe clamoroso giocare il 31 giocano il 31 di dicembre poi sperando che non ci sia dove hanno prenotato per fare capodanno il maestro Cannello che se ne è già andato vanno a fare il capodanno dopo la partita sarebbe abbastanza clamoroso non vi sto a dire che partite ci saranno perché avremo tempo e modo di parlarne visto che mancano 50 giorni siamo all'11 di novembre adesso perché mancano anzi quasi 12 mancano 9 minuti e il 31 di dicembre mancano un mese 19 giorni più o meno anzi no sì siamo a novembre un mese 19 giorni cacchio cacchio checchio checchio 50 giorni a capodanno porca puttana tanto non farò una beata Giovanna me ne starò bello tranquillo spapparanzato a casa comunque niente ragazzoli io intanto vi saluto vi ringrazio chiedo venia per i video silenziosi ma adesso li rifaccio tutti e ci vediamo naturalmente alla prossima ciao